E' giunta l'ora, Padre per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita e conoscerete e il figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conserva di tu, nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi. La tua parola è verità, che il loro cuore sia pieno di gioia. La gioia vera è da te. Io sono il loro e tu in me. E siamo effetti dell'unità. E il mondo creda che tu mi hai mandato. Li hai amati come ami me. E il mondo credo che tu mi hai mandato. E la tua parola è verità. Grazie.